Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI dove si segnalano due chilometri di coda per lavori tra Ponte d'Era Ovest Consacco e Ponte d'Era Est in direzione Firenze, spostandoci in A1 in direzione Bologna a chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il vivio con la variante di valico paccheraia e aglio, sempre in A1 per lavori stanotte in orario 22.06 sarà chiusa l'entrata di Firenze in Pruneta in direzione Roma. Per la viabilità cittadina via di Santa Marta a Firenze resterà chiusa fino al 16 maggio da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!